Scarface a 4K con la statuetta di The World Is Yours Siamo a dei livelli 4K Scarface The World Is Yours Di questo film che è un culto di una bomba a tono Guardate che mega box Scarface a 4K con la statuetta di The World Is Yours Guardate qua di questo film che è un culto di una bomba atomica Cioè raga, poi parliamo di una leggenda del film più figo della storia in 4K Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Toscina, guardate che roba Uuuuh, che buono di Sios, Scarface Costa 100 euro circa tutto l'amplesso ma secondo me ne vale assolutamente la pena Poi in 4K una cosa allucinante raga Una roba da palva 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 Grazie.